Sono Silvio Italiano, operaio 78ista dei Consorzi di Bonifica. Noi siamo oggi qui per rivendicare il nostro futuro di lavoro e sicurezza, perché noi facciamo solo tre mesi e poi ci mandano a casa. Quello che vogliamo noi è che la politica oggi si prenda le proprie responsabilità e mantenga gli impegni che aveva preso nella cabina di regia che è stata fatta per risolvere i problemi dei Consorzi di Bonifica. Noi per adesso siamo qua per dare il nostro contributo e il nostro segnale alla politica che non molliamo un centimetro. Crediamo che la norma che introduce il turnover rispetto ai Consorzi di Bonifica sia una norma che aiuta in maniera definitiva l'agricoltura siciliana, perché consentirà agli agricoltori di avere l'acqua nel momento in cui ne hanno bisogno. Attraverso questa norma è possibile rimpinguare 411 unità lavorative che già lavorano in livelli inferiori e renderle utilizzabili tutto l'anno. Credo che questi giorni saranno tre giorni lunghissimi, perché se non avremo risposte concrete da qui non ce ne andremo, perché è chiaro che nel momento in cui il governo non manterrà fene rispetto all'impegno del turnover, capiremo che non ha assolutamente intenzione di mettere in piedi qualsiasi tipo di riforma.